innamoratamente o restando dante o reste piccolissimo alla fine degli anni 60 nella casa di famiglia a sanremo ovviamente in via dante alighieri scopre nella libreria del misnonno un antico ed elegante album di fotografie rilegato in morbida pelle di cavallino sbalzata nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura credo che a ognuno di voi sia capitato di scoprire che la poesia rende l'uomo vivo la poesia è la vita dell'uomo a ognuno è capitato di rivivere la propria commedia la propria divina commedia a me è capitato mi ha dato la possibilità di viaggiare e conoscere mondi diversi e maestri diversi paolo giuranna vittorio gasman giorgio albertazzi evgenie vtucenco carmelo bene nicola piovani tutti in questo libro che spero che voi amerete e condividere te con tutta la passione che io ci ho messo con tutto il mio cuore